Il comune di Capaccio Pestum ha deliberato l'attivazione a partire dal prossimo 15 giugno e fino al 31 agosto della Guardia Medica Turistica in località Licinella. L'importante servizio sarà svolto nei locali scolastici della scuola primaria da lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20. L'ente capaccese guidato dal sindaco Franco Alfieri ha deciso di attivarsi per la stagione estiva appunto promuovendo iniziative volte ai fruitori della fascia costiera che notoriamente soggiornano numerosi nell'ambito del territorio comunale al fine di rendere servizi più qualificati in particolar modo riguardo idonea garanzia di supporto nelle strutture sanitarie pubbliche per l'incremento dei cittadini residenti nel periodo estivo.